Stiamo chiedendo della struttura di Portalba, sa che cos'è? Voi state proprio qui di fronte. Sì, è stata ristrutturata, questo era un ex mattatoio, all'inizio è nata come un'associazione bollenti spiriti, quindi si faceva un'attività con giovani, dei corsi, poi sono diversi anni, 6-7 anni, che tutto ho chiuso e abbandonato. Ho speso un sacco di soldi, computer, sedie, questo e quant'altro, al che è durato niente, cioè mi sembra una cosa proprio, cioè partono in quarto e arrivano con la prima, questo è tutto. Quindi si spera almeno di riabbattere il muro, togliere i cancelli e creare una piazzetta per i bambini, per il vicinato, dovrebbe essere una cosa più utile.